Ernestino Ramella non è più l'allenatore del Como. La separazione è consensuale e con una stretta di mano nella tarda serata di ieri dopo un colloquio tra l'ormai ex allenatore e il vicepresidente azzurro Pietro Porro. Una notizia che era nell'aria e che ora è diventata ufficiale. Ramella aveva guidato il Como qualche anno fa in Serie D ed era tornato quest'anno richiamato sull'ario dall'allora presidente Antonio Di Bari. Una stagione travagliata, la sua con un ottimo inizio e la squadra in zona play-off. Poi un misterioso esonero e la formazione affidata alla coppia Chiarenza-Manari con la supervisione tecnica di Antonio Tesoro. Poi nella parte finale del campionato la scelta del nuova proprietà di richiamare Ramella mentre gli azzurri erano in caduta libera che alla fine ha raggiunto l'obiettivo di ottenere la salvezza consolidando così il suo curriculum visto che nella carriera di allenatore non è mai retrocesso. Ma come detto le parti si sono lasciate in buoni rapporti. La società ha apprezzato il lavoro svolto dal mister nell'ultima parte della stagione. Porro ha anche consegnato a Ramella una lettera di ringraziamento e gli ha ribadito la gratitudine della società e dei tifosi per quello che ha fatto. Ma soprattutto al di là di un discorso tecnico ha voluto manifestare la sua stima per la persona. Allo stesso tempo però il vicepresidente ha sottolineato che per dare un segnale e per voltare pagina il nuovo Como sta cercando un allenatore con caratteristiche differenti. ossia un emergente, un tecnico da lanciare e che abbia voglia di mettersi in luce. Ed è per questo che è stata fatta una scelta differente con come è noto in pole position Diego Zanin ultima stagione al Treviso e Alfredo Paolucci al Chieti. Ma non è escluso che a sorpresa possa saltar fuori qualche altro nome gradito ai dirigenti e a quello che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo Mauro Gibellini. Grazie a tutti.